Il covid-19 continua a colpire duramente la nostra città e le frazioni. I contagi aumentano sempre di più con una media di circa 10 nuovi casi al giorno. Dagli ultimi dati comunicati dal sindaco Michele Baticchio risultano positivi 366 concittadini, 324 residenti a Bitonto, 18 a Mariotto e 24 a Palombaio. Dal 1 novembre ad oggi si contano inoltre 106 guariti e 10 decessi. Le persone colpite hanno un'età media di 45 anni e fanno parte di 204 famiglie, segno di come il virus si stia diffondendo all'interno degli stessi nuclei familiari. Il nostro primo cittadino non ha nascosto la sua perplessità circa un possibile allentamento delle restrizioni in vista del Natale. Entro il 3 dicembre, data di scadenza del DPCM attualmente in vigore, il governo dovrà infatti decidere quali nuove regole imporre per contenere i contagi anche nelle prossime festività. Tante le deroghe su cui il Premier Conte e i ministri discutono, fra cui spostamenti, coprifuoco, riaperture e ritrovi di familiari. Opinioni contrastanti arrivano anche dai vertici regionali. Non intendo commentare a lungo le voci di un possibile alleggerimento delle restrizioni per le vacanze natalizie, quando il nostro Assessore alla Sanità parla di contagi elevati e il Presidente dell'Ordine dei Medici Pugliesi vede la sanità in condizioni talmente precarie da debitare a ritardi di interventi la perdita di vite umane in questo momento, ha dichiarato a Baticchio. Non mi sembra serio quello che si vorrebbe fare in rapporto a quanto ci stanno comunicando i nostri esponenti pugliesi. Per questo il Sindaco ha già annunciato che per il nostro comune saranno probabilmente previste decisioni in contrasto rispetto a quelle generali.